Ci potete passare anche cento volte davanti, ma stentereste a riconoscere tra le gigantesche strutture della stazione Termini una chiesetta che, miracolosamente è il caso di dire, ha resistito al necessario incedere della modernità. Si è talmente saputa mimetizzare che l'occhio distratto la potrebbe scambiare per una semplice casa cantoniera. E invece si tratta della chiesa di Santa Bibiana, o se preferite di Santa Viviana, visto lo strano rincorrersi, sostituendosi l'una con l'altra delle consonanti B e V nel corso dei secoli, tanto che oggi i greci la beta la chiamano vita, nel siciliano barba si dice varva, mentre in lo spagnolo si pronunciano più o meno allo stesso modo, eliminando così il problema. Nonostante si presenti come una modesta struttura, è dotata di due campanili con tre campane secentesche, come secenteschi sono la facciata e gli interni. La chiesa, da ristrutturare in occasione del giubileo del 1625, ordinato dal fiorentino Urbano VIII, nato Barberini, che poi ne farà altri nove straordinari per far cassa, secondo i maligni, e che rimarrà un record imbattuto, la chiesa, dicevamo, viene affidata a un giovane emergente di 25 anni, Gian Lorenzo Bernini, che si trova davanti a due difficoltà, rappresentate dalla scarsa esperienza in campo architettonico, essendo questa la sua prima opera, e dal fatto che dovevano essere mantenute le stesse strette misure di quella preesistente. Diciamo che se la cava abbastanza, mantenendo un rigoroso equilibrio di tipo classico, con qualche accenno di prospettiva. L'edificio si conserverà più o meno come lo vediamo oggi, stando a un disegno di Giovanni Battista Falda, pubblicato nel 1665, salvo per la loggia superiore e la perdita dello stemma papale. La facciata è articolata su tre campate, di cui quella centrale rimane più sporgente, suddivise da paraste ioniche, che anticipano tre archi a tutto sesto, mentre l'ordine superiore, separato da una robusta cornice, riprende il disegno dell'ordine inferiore, sostituendo agli archi una bucatura al centro per dare profondità, e due finestre laterali. Il tutto revisitato in epoca successiva, forse per problemi di staticità, che vanifica lo sforzo del Bernini. Nel piccolo atrio che precede l'entrata si aprono tre porte. Quella centrale, la più grande, aveva sopra lo stemma del Papa, ed è ornata da mascheroni. La chiesa, all'interno, si presenta tre navate, separate da quattro colonne di spoglio, per parte, con capitelli corinzi, di età imperiale. Il soffitto, affrescato dal fiorentino Agostino Ciampelli, che già abbiamo incontrato a Santa Maria in Trastevere, non esiste più, ma fortunatamente ci sono rimasti gli affreschi della Navata Centrale, un vero e proprio fumettone dove si narra della Santa. Il ciclo degli affreschi è affidato, oltre al maturo Ciampelli ormai sessantenne, a un altro giovane, Pietro Berrettini da Cortona, che diventerà, insieme al Bernini e al Borromini, uno dei massimi protagonisti del barocco. La leggenda, non suffragata da alcuna documentazione, narra della famiglia di Bibiana, composta da Flaviano e da Frusa, padre e madre, e dalla sorella Demetra, che il cattivo prefetto Aproniano, convinto che la perdita di un suo occhio fosse da addebitare alle pratiche stregonesche dei cristiani, stermina, anche per appropriarsi dei loro beni. In questo riguadro assistiamo alla morte di Demetra, che felice se ne va in cielo di fronte al prefetto. Emergono, già nell'affresco, sebbene sia stata notata qualche incertezza tecnica, le caratteristiche del pittore, come l'attenzione nei particolari delle strutture antiche, l'armonica composizione che tuttavia mantiene il senso di drammaticità, e quel gusto del racconto dove ogni personaggio ha una propria caratterizzazione. Accanto, un riguadro del martire Flaviano, il padre di Bibiana, con sotto lo stemma dei barberini, che pare in origine al posto delle api ci fossero dei tafani, insetti poco nobili per una famiglia che aveva alte aspirazioni. Nel secondo riguadro siamo di fronte all'inutile tentativo della signora Ruffina di riportarla all'adorazione degli idoli, e visto che non c'è niente da fare, la legano ad una colonna dove viene percossa con palle piombate, fino a che esala l'anima. La colonna è conservata nella chiesa, ben protetta dalla devozione dei fedeli che a forza di grattarla ne avrebbero compromesso la funzione di testimonianza. Passiamo alla navata di testa del Ciampelli, dove, come vedete dalle fogge degli abiti, l'episodio viene attualizzato, eppur mantenendo il filo del racconto perde di drammaticità, ma acquista nella stesura meno violente e più morbida del colore, dove si sente la mano esperta del vecchio pittore, che qui illustra il momento in cui Bibiana viene lasciata insepolta per due giorni al foro Boario, dove rimane preservata dall'usura del tempo e dalla furia degli animali, finché il presbitero Giovanni la raccoglie e la seppellisce insieme alla madre e alla sorella. A questo punto entra in scena la matrona olimpina, che donna santissima, ma sconosciuta all'odierna Nagarfi di Santi, fa erigere la chiesa in onore delle tre martiri, ignorando il povero Flaviano, marito e padre a sua volta partirizzato. Corriva l'anno 363. Qui finisce la leggenda, raccontata per i devoti e per esaltare la potenza di Papa Urbano, che dove può infila le sue api dappertutto e che proprio con l'attualizzazione degli eventi sottintende il suo personale intervento, in considerazione che la chiesetta si trova a metà strada tra le basiliche di Santa Maria Maggiore e San Lorenzo fuori le mura e quindi poteva essere un punto di passaggio obbligato. Insomma, un bel castello fantastico ideato da tre toscani, Barberini, Ciampelli e Pietro da Cortona. D'altronde non è un caso che l'antica terra dell'Etruria abbia dato i Natali all'autore di uno dei più famosi libri nel mondo. No, no, aspettate, non mi riferisco a Dante e alla Divina Commedia, ma a Carlo Lorenzini, alias Collodi e alle sue avventure di Pinocchio. Passiamo ad un altro capolavoro presente nella chiesa. La statua di Santa Bibiana, che oltre a essere la prima commissione del neoeletto Papa Albernini, rappresenta a pare la sua prima scultura di carattere sacro. Inquadrata da un arco e inserita in un'edicola classicheggiante con il fondo grigio che ne salta la figura, ha un atteggiamento estatico e mentre il braccio destro si appoggia sulla colonna a ricordare lo strumento di tortura, nel fianco sinistro spunta la palma, simbolo del martirio. Ai piedi un fascio d'erba, che se non è all'oro, potrebbe essere la cosiddetta erba di Santa Bibiana, altrimenti conosciuta come canapa acquatica, pianta che cresceva in quei luoghi e veniva utilizzata essiccata per curare vari malanni, ma di cui oggi ne è vietato l'uso per l'estrema tossicità. Il Bernini, per alleggerire il senso di staticità, ricorre ad alcuni geniali stratagemmi, come il vento che sembra scorrere fra i capelli, le pieghe delle vesti e il ginocchio piegato che termina con il piede che si appoggia leggero e di sbiego sulla base. Sulla volta il Padre Eterno con Angeli. Terminiamo la nostra visita con le due cappelle visitabili, dato che due sono il restauro e un'altra, quella sul lato sinistro al buio e che presenta la tela del Ciampelli con Santa Demetra, quella di destra, di inizio 700 che frontalmente presenta una tela di anonimo con San Carlo Borromeo e in basso Carlo II Re di Spagna e altre due tele di anonimi e quella di sinistra con una tela di Santa Gertrude Magna di tale Giacomo Verona Fiammingo. Una lastra tombale che causa la scarsa visibilità non riusciamo a decifrare ma che orientativamente si situa tra il XIV e il XV secolo ci ricorda che prima o dopo ci tocca. Un ultimo sguardo alla controfacciata in cui una targa tra angeli musicanti riassume la storia della Chiesa che oltre alla matrona olimpina subirà interventi all'epoca di Papa Simplicio, seconda metà del Quattrocento e di Papa Onorio III nei primi anni del 1200. Come al solito, un saluto David Lab. Grazie a tutti.